Allora, saprete sicuramente tutti quanti che io sto bestemmiando. Volete sapere perché? Notate qualcosa di strano? No! Se no, se non notate nulla di strano, ve lo dico io. La roba, nello scorso episodio, era despawnata. Quindi, ho ripreso da capo la roba. E abbiamo il visore lotturno, quello rotto, ora riparato. Ho ripreso tutto dalla creative. Perché? Perché ho sperimentato su di lui? Sul 939. Cioè, non potevo che ne so sperimentarlo sullo showman, o sui killer del sono, o sui ragni. Sui ragni. Loro, voi state lì. Ma se io ti po' apro la porta, va, si imprendono. No! Non avrete mai metto. Comunque ragazzi, la scorsa volta avevamo visto l'SCP 668, ovvero il 13 Chef's Knife. Ho ancora una mod di dinosauri, mi sono scordato di toglierla. Ho messo il portale anche già. È notte, però io faccio tanto di questo. Sempre si trova... Eccolo qua. Voilà. Voilà, intanto... Lascio un creeper, va bene. Eh, raga, allora, intanto... Allora... Si è ripreso in Minecraft. Devo togliere, raga, la mod di dinosauri, se no... Sono cavoli per tutti. Vabbè. Con quella cella che andiamo a visitare oggi, sta da quella parte. Mi sono scordato le torce. No, dai... Minecraft mi ha capito. Minecraft, tu mi hai capito più di tutti. Perché laghi? È la stessa domanda che io mi sto ponendo. E perché non ho le torce? Anche questa è una domanda. Che mi sto ponendo. Perché mi fai perdere tre anni, Minecraft? Cosa ti ho fatto di male? A tal punto che mi fai perdere tre anni per fare una cosa, dire qualcosa... E laghi a bestia. Perché? Mandati un cazzo di segno dal cielo. Ok, raga, allora... Intanto ho fatto un rito spirituale... Ok, raga, allora... Stavo dicendo... Che mi sono preso le torce. Nel fondo della cella delle SCP di oggi... C'è uno strano liquido. Non so che liquido sia. Però mi butto. Speriamo che non faccia... Ah, niente. Da Wither? Da avvizzimento? Però non fa danno. È un... Perché io non prendo danno. Ahia, no, no. Prendo però... Occasionalmente. Vediamo un po' che liquido è questo. Mi pare che... Penso sia acido. E in effetti è acido. Perché l'inchiostro non poteva essere. Vabbè. Quindi questo è acido. Non fa male. C'è un creeper. Va bene. Comunque questa è la cella delle SCP di oggi. Direi di entrare... E le SCP è Keter. 020. 020. Lo conosco 020. È la muffa invisibile. È una... Per chi non lo conoscesse... Non c'è letteralmente quasi nulla da dire. È una muffa che non puoi vedere. E se ci entra in contatto... Diventi mi pare... Pericoloso. Mortale. Una roba del genere. Non ricordo. Qua c'è una chiave di livello 1. Ah, io vado da questa parte. Perché là... Vedete che c'è la porta magnetica. Quindi direi di andare... Ok, qua c'è un altro cartello di SCP 020. Ce ne abbiamo due. Se io vado di qua... Ah, mi pare che questo era un altro ingresso. Va bene. Mi prendo anche l'altro label. E... Andiamo dalla porta magnetica. Ok. Molto strana questa cella. C'è una porta... Che però non possiamo aprire perché non c'è... Il che carriere. Qua noto anche... Sono caduto. Qua noto anche che le pareti cambiano. Non so se è una cosa... Ma va bene. Allora, io entro di qua. Ok, non c'è nulla. Aspetta, indosso il visore. Ok. Ok, raga. Allora, mi sono messo il visore notturno. La chicchia un po'. Sì, la chicchia. Però qua non c'è niente. Per chi non l'avesse capito, questo SCP lo puoi vedere solo se tieni il visore notturno. Ci sono due porte. Una di qua e una di là. Qua che car... Eh no. Qua a level 4. Mi sa che qua dietro c'è l'SCP. Qua c'è un'altra area. E ci sono delle tute. Qua non c'è niente. C'è un'altra tuta. Qua c'è scritto SCP 020. Ah, e qua c'è il token. Va bene. Abbiamo anche la sua conoscenza. E vabbè, qua non mi pare che non ci sia nulla. C'è solo le tute, perché questo SCP è pericoloso. Io me la indosso. È buggata. Facciamo una cosa. Togliamoci tutta la tuta. Così da diminuire il lag. E teniamola. Allora ragazzi, questo video lo sto facendo separatamente a quell'altro. Perché? Allora. Il video l'ho continuato. Infatti vi faccio anche vedere che ho anche qua già messo il... Se riuscissi sempre ad aprire la porta. Qua ho... Sono riuscito... Allora, sto dicendo che qua sono riuscito a mettere il label e il token. Perché il video l'avevo continuato perché non... L'avevo continuato ma ogni... Santo... Secondo... La gava. Quindi raga, sto riprendendo il video ma lo sto registrando in un altro momento. Dal punto in cui ci eravamo fermati. Perché io ho tagliato al punto in cui ho aperto la porta e stavo così. Stavo in questa stanza. Ho aperto la porta. E dovevamo entrare qua dentro. Infatti io nel video dovevo entrare qua dentro. E qui dentro c'è questo. C'è questa cosa qui. Che vuoi dire? E che cos'è? Allora, si chiama SCP-020-container. Ha i bordini. Allora, se clicchiamo col tasto destro. Ci dà una SCP-020-vial. Se... Allora, intanto prima faccio una cosa. Mettiamo la tuta perché la tuta ci protegge. Guardate, se io clicco il coso sparisce. E io ora ho quattro di questi. Se continuo a cliccare non succede nulla. Se lo spacco e lo ripiazzo posso ottenere altre di questa roba. Questo coso me lo tengo. Me lo prendo. Sì, nel video ho anche distrutto il visore. Intanto, raga, io ho la tuta. Quindi sono protetto. Se io clicco con il tasto... Qua c'è un coso. Va bene. Allora, ragazzi. Ho riparato il buco. Stavo dicendo che questo coso non fa nulla. Ma se clicco sul tasto destro. Aspetta. Ah, sì, l'ha fatto. Ha generato qua, in questo punto, la muffa di 020. Se io metto il visore notturno rotto. Ecco qua. Questa è la muffa di SCP 020. Posso disattivarla spaccando il blocco. E si espande in questo modo qui. Se io faccio... Cioè, io la posso togliere solamente se la spacco. Però anche se piazzo un blocco, la posso togliere. Adesso, raga, direi di passare alla sperimentazione. Non fa nulla. Non fa nulla. Vedete che non sta facendo nulla? Vedete, io sto toccando, facendo cose. Ma se io tolgo la tuta, ora l'ho tolta, il visore me lo tengo, si dovrebbero sentire dei suoni. Ora, io non ho l'audio. E dopodiché, aspettate e guardate. Queste le tolgo anche. Se noi aspettiamo, intanto non fa nulla. Ok, raga, stranamente ha laggato. Però non è successo nulla. Cioè, io ho il visore, lo tolgo anche. Non succede nulla. Il blocco è questo, eh, per chi se lo chiedesse. Non fa nulla. Però, raga, dobbiamo aspettare. Tecnicamente noi non lo stiamo sentendo, però il nostro personaggio sta sentendo i suoni. Là c'è anche già il portale, quindi possiamo direttamente entrare nel laboratorio. Qua la porta. Ok, abbiamo degli effetti. Ansia e nausea. La porta comunque chiede una carta di livello 4. Abbiamo, raga, ansia. Ecco qua, ansia e nausea. Per un paio di... È molto fastidiosa, l'ansia, per carità divina. Molto. Secondo me quando finisce succede qualcosa. Aspettiamo. Eh no, va all'infin... Ok. Ok, raga, è successo un casino. Ha tirato una lagata e dice che Eletros è morto da un'infezione. Sono respawnato a casa. Comunque, i dinosauri non li vedete perché, come avevo detto, li ho rimossi. Adesso, raga, direi di tornare lì nel punto perché avevo visto un tizio che aveva la mia skin. Quindi, raga, ci vediamo fra poco. Ok, ragazzi. Allora, mi sono recuperato tutta la mia roba. Direi anche di metterci già la tuta perché... Eh, potrebbero succedere tanti di quei casini. Sì, sto un po' organizzando. Comunque, allora... Avete visto che nel video si vedeva un qualcosa? Bene. Quel qualcosa... Effettivamente... Aspettate perché ho paura. Effettivamente c'è, raga, un tizio. Guardate, c'è un tizio. C'è un mio zombie con la mia stessa skin. E quanto danno fa? Vediamo un po'. Fa... Fa un danno. Neanche abbastanza sottovalutato. Non è sottovalutabile. Ma... Eh, non fa tanto. Comunque ho notato, raga, se io mi... Ok. Ok, non lo vedavamo. Raga, lui... Ha la muffa. Vedete la sua faccia e le sue mani? Ha la muffa. Cioè, vedete, questa è la muffa invisibile, l'SCP. Cioè, lui è tipo uno zombie. Allora, io adesso voglio fare un test. Comunque voglio vedere là il... Il coso si è espanso. Il coso mi pare che ce ne sia ancora solo uno. Allora, adesso, raga, dobbiamo fare un esperimento, ovvero, dobbiamo provare a vedere... Cosa succede se ci faccio uccidere da lui? Ok, raga, allora. Adesso apro. Lui può attaccarmi. Fa... Fa... Ci vorrà molto tempo. Anzi, andiamo di qua. Vieni, vieni. Ok, vieni. Vieni. Vieni, dai. E uccidimi. Letteralmente, dai. Cioè, ci vorranno sette anni, perché... Scusate, fa un cuore... Mezzo cuore di danno. A colpo. E... Sì. Diciamo che ci vorrà... Ok, raga, allora. Ho tagliato perché stava laggando. E dice che siamo stati uccisi da Entity. Ve lo faccio vedere sopra. Entity. SCP. SCP020zombie.name Quindi, raga. Diciamo che... E... Non ha una classificazione, perché... Essendo che ha il nome Error, oserei dire... Eh, eh, per carità. Cioè, ha un... Il suo nome è molto errorato. Comunque, raga, adesso vado a riprendermi la roba. Uccido lo zombie. Ci vediamo fra poco. Ok, ragazzi. Allora. L'ho ucciso. Sì. Questo... Sì. Lo lascio qua. Questo... Così a rando. Va bene. Raga, il... 020... Il mo... Lo zombie. Mi ha dato il pezzo di carne marcia. Io queste cose le lascio qua. Lì c'è ancora della muffa. Mi metto la tuta, perché... Da quel che abbiamo capito, con la tuta... Non ti fai... Non ti puoi fare infettare dall'SCP. Ed è buona, come cosa. È bu... Molto buona, veramente, perché... Altrimenti... Ok. Si è buggato, non mi... Si è buggato... Ehm... Ehm... Ho perso... Vabbè, tanto non mi servivano. Abbiamo il contenitore. Abbiamo il container. Qua possiamo averne infiniti. La... Questa... Vediamo un po'. Qua è cambiato qualcosa, non mi pare. Io questa... La spacco e... Chiudo per... Perché che ne sai che poi... Esce e invade tutto il mondo. Perché potrebbe essere, tranquillamente. Cioè, voi non ci credete, però... Potrebbe essere, perché... L'episodio che ho fatto off camera... L'episodio che ho tagliato... Do... DSCP 020. Questo qua... Si è espanso... Il virus. Quindi, raga, allora... Io non so che dirvi. Io mi metto... Ehm... La... La tuta. Ehm... L'SCP... Io... Lascerei quello, perché... Cioè, potrei anche lasciare la muffa, però... Cioè, abbiamo... Cioè, tanto l'SCP è contenuto all'interno di quella... Perché quello là non è l'SCP. Quello è il contenitore dell'SCP. Ho un altro label di 020... Che... Non so che farci. Che, raga, non so che farci con questo label. Provvederò a far... A trovare una sistemazione. Per il resto... Niente, ragazzi. Da me... Le trosse c'è tutto. Abbiamo anche... Anche, raga... La scorsa volta... La... La scorsa volta avevamo visto il coltello. L'avevo fatto... L'avevo detto all'inizio video, mi sa. Non... Non ne sono sicuro. Però lo ridico, perché sì. Avevamo visto lui... Con il token. E... Poi anche la panacea. Devo espandere il corridore. Tanto, tecnicamente, noi qua... Di SCP... No, ci sono degli Enderman. Tanto, raga, di questa area... Dobbiamo ancora vedere quel laboratorio strano esterno. Che non ho la più pallida idea... Di cosa possa essere. Ma per il resto abbiamo visto tutto. Quindi posso continuare il laboratorio. E niente, ragazzi. Da me, elettro 16... È tutto. C'è anche l'allosauro che dorme. Quindi... Ciao!